Calcati mentre comincia la partita, comincia all'anticipo della settima di ritorno di Serie A, Julian Sona con la palla in mano per Venezia la palla dentro per Peric, subito un canestro del Croato e l'uomo in più di Venezia, 15,4 punti a partita non sbaglia nulla, Landon Milburn 2 su 2, 5 punti già per lui, 5 degli 8 di Pistoia, attacca adesso Venezia si va da Orter sotto canestro, poi Peric si destreggia, mette in fondo alla retina al punto dell'8-6 rimane in partita Venezia sotto il doppio qui, 12,6, deve giocare con calma, siamo solamente nel primo quarto, 3 minuti giocati già 7 punti per Milburn, intanto attacca Peric, ha la risposta di Venezia a Milburn, va ancora a bersaglio Croato il primo quarto che è letteralmente volata perché il ritmo è altissimo ancora Williams, prova di incunearsi nella difesa di Venezia, esce bene Peric, palla a piede, prova il costo costo ancora Stona, alza la parabola, va a bersaglio al play di Venezia bel passaggio di Peric, dalla linea di tiro libero, come si deve fare? Pistoia, sono 6 i punti di Peric, in questo primo quarto alza la parabola dalla lunetta non una percentuale altissima è meglio di quanto ci pensano, occhio a Venezia, poi il zona pressing qui perché sono schierati in maniera sotto, Milburn, deve superare Peric, gran duello questo Milburn, alza il tiro, non trova il ferro riparte Venezia con Stona, super veloce il contropiede di Stona, sbaglia, poi c'è il tapin vincente di Peric Peric presentissimo, e Venezia era possesso importante adesso va a cercare Inslee sotto canestro, trova invece l'intercetto di Dulkis molto bravo Dulkis a leggere le situazioni prima cosa buona dell'ituano di questa partita, Peric marca Brown, due all'altra numeri 4 qui, Peric alza la parabola, bersaglio Venezia meno uno, e Peric veramente il maestro di questo 5 su 7 dal campo dopo che aveva tirato 6 su 27 nelle tre precedenti partite intanto si ricomincia a giocare, primo attacco di Venezia, Jackson pesca Peric nell'angolo può tirare da tre e va subito, a bersaglio, arvoie Peric esatto, alza di Raffaele, altri meno intanto Hall prova ad andare fino in fondo, trova il muro di Ress recupera palla Stona e fa ripartire Venezia in velocità si va da Peric, attacca il ferro, fino in fondo Peric alto canestro per Venezia che tocca a quota 60 punti e ferma 54 fissori è arrivato a 10 punti, vedete che in stagione viaggia 8,1 già sopra media, Peric intanto ha litigato un filo col pallone, stava per partire ci riprova adesso Peric, fino in fondo loro dicono che Peric ha fatto un gancio per entrambe, Venezia che adesso è in possesso con Son che dà aiuto a Goss la danza di Phil Goss contro Hall del passaggio per Peric, grande invenzione, Ortner fin in fondo, canestro più fallo ottimo passaggio, buona circolazione Marca Filloi viaggiava a 7 di media prima di questa partita siamo a 12 con questo veramente il migliore imbalsista della squadra Ruzierra, adesso è finta il passaggio per Peric si alza per il tiro da 3 a bersaglio Arvoio e Peric, scappa via Venezia più 11, 79 a 68 ci mette un po' di ghiaccio Peric in lunetta, non sbaglia al primo tentativo a cronometro fermo in stagione deve essere all'introquoto a 23 punti diventano 24 il suo minimo stagionale e va per più 12 se fa dentro questo infatti non sbaglia al Voi e Peric grazie mille